dark water è un film del 2002 diretto da ideo nakata ideo nakata è anche il regista di film come the ring the ring 2 eccetera eccetera sadako insomma è il suo insomma chiaramente se non ti funziona bene un genere vai avanti tra l'altro detta sua non è neanche un fan dell'horror lui però se uno è bravo a fare le cose e usa il cervello poi le cose gli vengono bene faccio vedere il trailer perché voglio entrare nel mood io voglio che entriate nel mood voi allora il film fa parte della j horror collection di midnight factory è una classica appena uscita edizione limitata che mi è stata mandata appunto per fare la recensione è una collection molto molto bella perché ha questi due film e anche veramente una tonnellata di extra che io ho iniziato a vedere ieri dopo aver visto il film ma sono veramente tanti e lunghissimi sono intervistati i registi produttori lo scrittore dei racconti di the ring di dark water che è molto importante in questo in questo film è molto in questo in quest'opera lo scrittore è molto presente in questi film che non è sempre una cosa così normale vi faccio vedere velocemente l'edizione se riesco è fatta a libro dentro c'è libretto voilà con le foto e le cartoline dischi allora solo dark water in 4k probabilmente perché era l'unico che si poteva portare in quella risoluzione di ip avranno fatto le loro scelte non so perché comunque dark water in 4k e pulse è in blu ray allora la storia di questo film parte da una separazione una madre e un padre che si separano e hanno una bambina la madre vuole ovviamente tenere la bambina e la ottiene temporaneamente cioè servizi sociali i giudici devono decidere per il momento rimane con questa donna che si separa trova una casa in un condominio e ci va a vivere insieme alla figlia poi nel frattempo gli avvocati e tutto faranno tutto il loro lavoro e i servizi sociali pure per stabilire se questa donna è in grado di tenere il bambino eccetera perché comunque ne ha la possibilità in quanto madre arriva in un condominio patiscente patiscente non non distrutto ma ma patiscente sporco umido pieno di macchie oscure alcune stanze alcune alcune non alcune quasi tutte le scenografie all'interno del condominio sono sembrano quasi e forse lo sono dei teatri di posa sembrano costruite sono molto espressive sono molto cupe espressive questo condominio è inquietante e perché vi dico che sono espressive perché veramente sembra di vedere il gabinetto del dottor carigari cioè sembra cinema espressionista perché è la casa le scale i corridoi l'ascensore hanno un ruolo hanno il compito di esprimere delle emozioni di farvi provare delle emozioni quindi il condominio è protagonista di questo film il condominio gocciola condominio gocciola entrano in questa casa la casa questo appartamento ha delle macchie di umidità macchie che rappresentano anche un po una sorta di malattia come le macchie che possono venire una persona che si prende un'infezione per qualcosa e quindi l'umidità in un certo senso è anche una metafora di una malattia la metafora di un di qualcosa di malsano ciao anna benvenuta nel canale metafora di qualcosa di malsano perché il condominio ha qualcosa di malsano è molto interessante questa cosa perché adesso io non so quanti di voi l'hanno visto ma io forse un po sarò spoiler con voi perché non posso non posso non entrare dentro a una cosa importante che riguarda la trama c'è anche un'altra c'è anche un'altra metafora allora il condominio è malsano perché c'è qualcosa che infetta il condominio qualcosa che è successo che lo maledice ma lo lo infetta anche rende l'acqua del condominio malsana e fa gocciolare acqua un'acqua che gocciola dai muri che 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 scorre quasi con nei corridoi che scorre giù dalle pareti un'acqua a un certo punto che che è copiosa che rappresenta anche in un certo senso il sangue e in un certo senso anche le lacrime perché dietro tutto ciò c'è un grandissimo dramma questo è forse uno dei dei film horror più drammatici che ho visto non nel senso che il dramma è un dramma peggiore di altri film ma nel senso che proprio come genere questo è un film drammatico è un film fortemente drammatico con una spruzzata di horror è molto più drammatico che horror questo potrebbe essere una critica che si fa che si può fare al film se uno si aspetta di vedere un horror ma è talmente un bel film drammatico con una un indumento una veste più da horror che che non gli puoi dire niente perché è veramente un grandissimo bel film non c'è solo questa metafora del condominio come qualcosa che esprime un malessere che scoprirete poi nel finale ma poi vabbè poi dopo magari parliamo anche un po più spoiler perché ragazzi questo film insomma va spiegato ma c'è anche una bellissima metafora che è quella del rappresentare il il terrore di essere una madre sola con una bambina cioè è tutto distopico nel momento in cui questa donna perde la certezza di una famiglia e si ritrova da sola ad affrontare questo si trova ad affrontare questo questo problema io ho visto come questo questo luogo questo luogo spaventoso perché è un luogo veramente inquietante l'ho visto anche come la rappresentazione di ciò che vede una persona sola che deve fare il genitore e ha solo problemi davanti ha solo un sacco di problemi che non sa come affrontare e quindi il condominio rappresenta anche questo tutto intorno a lei è distopico è brutto inquietante e lo è anche questa quest'acqua che gocciola dal soffitto c'è una cosa una cosa molto 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 interessante sto parlando di dell'analogia incredibile che c'è ma non è un'analogia questo film è ispirato in modo palese al caso di elisa lam che è una ragazza che soffriva di di era bipolare soffriva di una malattia mentale che è famosa per un video girato in un ascensore un video di una telecamera di sicurezza di un ascensore che la riprende per l'ultima per l'ultima volta dove lei sembra parlare da sola chiaramente bipolare se sapete cosa significa allora io non sono uno psicologo quindi non posso essere preciso però vi posso dire che le persone bipolari possono avere degli stati di allucinazione nei casi più gravi penso e e lei è stata vista su questo ascensore parlare da sola insomma come se ci fosse un interlocutore fare delle cose strane dopo questo video che famosissimo sul web perché una serie di dementi ci ha costruito sopra leggende metropolitane su eventi paranormali in realtà è solo una povera persona che non sta bene se ci fate caso su nel film dark water c'è proprio una scena esatto questa scena questo movimento qua che lei fa è praticamente quasi identico a un movimento che fa la protagonista l'inquadratura è la stessa e c'è anche lì un ascensore inquadrato dallo stesso punto si si vedrà tante volte ma non solo la grande la grande analogia con il film io non capisco ovviamente come wikipedia su wikipedia è descritto come una strana analogia tra noi è praticamente ispirato a tant'è che la povera ragazza qua realmente esistita questo non è un film ragazzi questa vita reale la povera ragazza è stata ritrovata in una cisterna d'acqua una cisterna d'acqua qui sono spoiler quindi tappatevi le orecchie ovviamente il film parla proprio di questo cioè di una bambina che cade in una cisterna d'acqua e lì ci muore in questo modo contamina il è la storia di Elisa Lambe fondamentalmente non c'è nient'altro da dire ci sono delle analogie chiaramente nella morte e poi ci sono chiaramente delle analogie nel citare l'ascensore questo è un film con una regia spettacolare una regia spettacolare cioè di una pulizia di una di una sobrietà incredibile è molto sobrio è molto pulito e uno degli aspetti più belli è la recitazione chiaramente ne escono molto bene la protagonista cioè la madre ne esce molto bene perché è veramente bravissima togliete i dialoghi in italiano togliete il doppiaggio per vedere come recita ma anche a livello espressivo è veramente molto brava bravissima anche la bambina è qualcosa di strepitoso cioè non sembra il classico bambino preso messo lì cioè proprio è diretta benissimo e sembra veramente una bambina e vera che in quel contesto e questo crea molta ansia poi per quando sparisce quando succedono delle cose dove dove appunto dici cazzo dove finita cosa le succederà eccetera forse ecco sul finale il finale è un pochino un pochino forzato didascalico melodrammatico l'ho trovato l'ho trovato un pochino meno aggraziato del resto del film però comunque sul finale insomma c'è molta emotività è un film che è toccante da questo punto di vista c'è del sacrificio cioè sono molto bravi su questa cosa gli asiatici giapponesi ed è un film veramente bello veramente bello non è un film che spaventa tantissimo anche se veramente sa spaventare forse con dei ring diventa più horror il regista molto più horror ma ci sono due tre momenti che funzionano come come gestione della della suspense e dell'horror è un film che comunque ha la sua no è un film che non invecchia molto male in realtà funziona continua a funzionare esteticamente molto bello grazie a tutti